Io scelgo Oscar Masei, magari molti non lo sanno al giorno d'oggi, ma questo signore qui è quello che è stato a Gigi Riva per il Cagliari, Antonioni per la Fiorentina, Mazzola per l'Inter, Rivera per il Milan, è il giocatore più. Non è che lo diciamo solo noi, che io all'epoca poi ero solo un tifoso e quindi andavo allo stadio del ragazzino a vedere, lo dicono tutt'ora tutti quelli che sono stati i suoi compagni, nessuno ha mai osato dire io ero meglio di Masei, Masei era il camminiere dei loro ingaggi, quando loro sapevano quanto ingaggiava Masei loro sapevano che dovevano chiedere di meno, credo che sia il massimo attestato di stima. E' un giocatore che ha segnato 50 giorni in Serie A, ha giocato 244 partite, 9 anni e quando lui per una labirintite non ha più potuto dare il suo contributo, la Spal era tutta la S&B e di qui in Cilio. Le grandi sorti della Spal sono legate a questa signora qui che era anche un nazionale argentino, giocava centravante, poi per un grave infortunio ha perso un po' di gambe e di ritmo, l'hanno retratto in regia e siccome era un vero campione di quelli che oggi giocherebbero come si dice con la sigaretta in bocca, lui è diventato così d'emblè un regista.